Terra amara anticipazioni, ciò che sto per svelarti ti lascerà completamente senza parole, Fikret dopo un terribile incidente verrà portato in ospedale e la sua vita sarà appesa ad un filo molto sottile. Vorresti sapere se si salva? Rimani fino alla fine e inoltre ci sarà una bella sorpresa per te. Fikret è intrappolato in un silenzio forzato, avvolto in un coma dopo un terribile incidente. L'angoscia si diffonde tra i suoi cari, Zuley e Lutfai, che si abbracciano in cerca di conforto reciproco. Mentre Cettino serva fuori dalla finestra dell'ospedale, i suoi pensieri si perdonano nell'orizzonte. L'accusa pesa sulle sue spalle, puntando il dito contro Kolak, l'uomo che ritiene responsabile dell'incidente. I medici non offrono speranza, la prognosi è grave, con un'emorragia cerebrale severa che spaventa anche i più esperti chirurghi. Solo un chirurgo in tutta Europa ha il coraggio e la competenza per operarlo, ma è a Zurigo, un viaggio pieno di rischi. Il dolore di Fikret si diffonde lungo le strade che lo hanno portato dall'amata Mersin fino all'orlo della vita. Zuley e Lutfai si stringono nelle attese snervanti di un ospedale che rimbomba diechi lontani. Fikret giace immobile, avvolto nel silenzio di un coma, mentre l'inquietudine divampa anche nelle strade di Kukurova. I medici redarguiscono Lutfai, ostacolando ogni tentativo di trasferimento ad Ankara, temendo che il destino possa giocare la sua ultima, crudele carta. Ma nell'ombra della disperazione, un bagliore improvviso, un gesto audace compiuto da Hakan, porta speranza laddove sembrava non essercene più. La sua determinazione è come un faro che squarcia le tenebre. Grazie a lui, il miglior chirurgo, dall'antro dell'Europa, sfida non solo il tempo, ma anche ogni ostacolo sulla sua strada. Tra le pareti dell'ospedale, il chirurgo si batte per riportare Fikret alla luce di un nuovo giorno, fatto di guarigione e possibilità. Mentre la cicatrice dell'incidente inizia a chiudersi lentamente, Lutfai, Cetin e Zuleya si ritrovano sospesi in un momento di pura gioia. Il battito cardiaco di Fikret diventa un inno alla vita, una melodia che continua a risuonare nonostante tutto, annunciando un futuro radioso che sembrava ormai perduto. Vorresti sapere come continua la storia? Bene, scrivi il sin nei commenti e riceverai in anteprima il nuovissimo video. Iscriviti al canale e lasciati un video.